Ciao a tutti amici di Proestetica.it. Oggi siamo in una casa di bellezza, quella di Paolo Elia, un amico di Proestetica.it e vogliamo parlarvi di alcune procedure classiche che voi già svolgete nei vostri ambienti di lavoro per sanificare, sterilizzare e disinfettare non solo le vostre postazioni ma l'ambiente in generale. In questo contenitore troverete 100 salviettine di carta bioacida in grado di pulire e disinfettare le vostre superfici. La particolarità è che sono prive di alcol e solventi quindi risultano molto delicate per la cute. Hanno un pratico dispenser, vi permetterà di far uscire una salvietta per volta. potrete passarla sulle superfici in modo molto comodo e qualora doveste anche disinfettare le vostre mani la sensazione è semplicemente di freschezza e pulizia. Questa soluzione pronta all'uso sempre disinfettante sarà un apporto molto importante per le vostre per i vostri ambienti sia siano essi strutture mediche, centri di bellezza o appunto saloni di parrucchiere. Basterà semplicemente inumidire in maniera abbondante la parte da disinfettare, aspettare 15 minuti e poi rimuovere il tutto con della carta assorbente e far asciugare ovviamente all'aria. La particolarità di questa soluzione disinfettante è quella di contenere il 2% rispetto a 100 grammi di prodotto di cloruro, di decil, di metil ammonio. Questa soluzione pulisce e protegge tutti i mobili e le postazioni presenti nel nostro centro estetico, nel nostro salone. È particolare e ve ne consiglio l'uso mensile perché riesce a creare una pellicola trasparente sia sui nostri specchi o comunque sui nostri mobili e anche sulle poltrone anch'esse in pelle e crea quasi una barriera protettiva da tutto ciò che può essere depositato dalla polvere a spruzzi di lacca o comunque a soluzioni che possono deteriorare il nostro arredamento. Basterà spruzzarlo sui vostri mobili, sulle vostre superfici per poi andare ad asciugare tutto con un panno in microfibra. Per intensificare e avere un mantenimento di questo rituale, vi consiglio di applicarlo una volta al mese. Queste soluzioni pronti all'uso, quindi abbiamo visto, renderanno molto più sicure le postazioni e il vostro lavoro, ma soprattutto renderanno molto più serene le vostre clienti nel momento in cui verranno a usufruire dei vostri servizi. Quindi salviettine praticissime e appunto pronti all'uso, così come soluzioni disinfettanti che agiscono in meno di 15 minuti, oltre poi all'ultima soluzione che vi permette di mantenere la bellezza dei vostri arredi sempre in sicurezza e in pulizia. Abbiamo adesso maggiori informazioni su come aumentare la sicurezza dei nostri ambienti e vi auguro una buona bellezza. Alla prossima su prestetica.it